I miei interventi in genere riguardano la vita amministrativa, la politica, l'ambiente, però ci sono degli aspetti che così attengono alla sfera dei ricordi, alla sfera del cuore, alla sfera dei sentimenti. Mi trovo infatti dinanzi alla entrata della Villa Peripato e voglio ricordare una persona che non c'è più, che si è spenta in questi giorni. Mi riferisco a Francesco Galluzzi, il signor palloncino commerciante. Beh, certamente ve lo ricorderete proprio qui, in questo posto, con i suoi palloncini. Ricordo ancora come se fosse ieri la voce palloncino, palloncino. E in questo modo attirava ovviamente i genitori che si premuravano ovviamente per raccontentare i bambini. Beh, io ricordo che in questo momento mi vengono in mente tante domeniche in cui, uscendo dalla chiesa, facevo il chirichetto, facevo il catechismo e poi mio padre mi aspettava e andavamo in villa. E lui mi accompagnava e mi ricordo questo signore, Francesco, con i suoi palloncini. Poi l'ho rivisto qualche mese fa, prima che appunto si spegnesse. È anziano, provato ovviamente dagli anni, però sempre con quella sua simpatia. Ci faceva, come dire, quasi vivere nel mondo dei sogni, nel mondo del divertimento, nel mondo dell'infanzia, della purezza. E sono ritornato con la mente a questi ricordi. Bene, da consigliere comunale ho una idea. Vorrei, e lo proporrò nelle sedi comunali competenti, lo proporrò ufficialmente, che una stradina della Villa Peripato sia intitolata alla sua memoria. Devo dire, per amore di verità, che questa idea di intitolare una stradina, di dedicare una targa al compianto amico palloncino, mi è stata suggerita, mi è stata lanciata da Franco Dolente, un caro amico che opera nel borgo e che è l'addetto stampa di una delle associazioni della protezione civile. E quindi, Franco, bellissima la tua idea. Voglio che si traduca concretamente, che diventi realtà, attraverso il percorso, tutto l'iter che l'amministrazione comunale richiede. È un impegno che voglio portare a termine. Ecco, è un modo per ricordarlo, perché queste persone fanno parte della nostra storia, fanno parte del nostro vissuto. Ed è giusto che una targa commemorativa, una insegna ricordi dei tratti della nostra vita, di una vita semplice, di un uomo buono, qual era Francesco, di un uomo semplice, di un uomo che, ripeto, ha fatto parte di tante, tante nostre domeniche e ritengo che sia un omaggio doveroso alla sua memoria e mi auguro che l'amministrazione comunale tutta mettiamo da parte le ideologie, mettiamo da parte gli schieramenti maggioranza e opposizione, ma per una volta, tutti insieme, ricordiamo una figura storica della nostra Taranto.